L'impatto del coronavirus sulla psicologia delle persone di Roberto Marchesini Tra i vari studi che indagano l'impatto del Covid-19 sulla psicologia delle persone c'è anche lo studio proposto dall'Università di Chicago. Gli articoli che danno conto di questa ricerca hanno toni piuttosto drammatici. La CNN ad esempio titola Un'infelicità record regna mentre gli americani pensano che qualcosa sia andato storto negli Stati Uniti. L'Associated Press non è meno drammatica. Sondaggio Gli americani sono più infelici di quanto siano mai stati in 50 anni. Il tema della felicità è molto importante negli USA. Basti pensare che nella loro famosa Costituzione hanno inserito tra i diritti inalienabili dei cittadini statunitensi quello alla ricerca della felicità. D'accordo, hanno un modo tutto loro di intendere la felicità sul quale potremmo obiettare a lungo. Ma non dilunghiamoci troppo su queste questioni e torniamo al Covid. Pare proprio che questa influenza sia davvero terribile se ha reso gli statunitensi così infelici più infelici di quanto siano mai stati nelle ultime cinque decadi. E qualcosa è andato storto negli Stati Uniti non sarà mica l'elezione di Trump? Ovviamente i titoli sono una cosa le ricerche un'altra. Innanzitutto l'Università di Chicago monitora ogni due anni l'autopercezione di felicità degli abitanti degli Stati Uniti. Si tratta dunque di una ricerca periodica. Secondariamente ciò che lo studio monitora non si basa su fattori oggettivi correlati alla felicità ma chiede alla popolazione di autovalutare il proprio livello di felicità il che non è proprio il massimo del rigore. La percezione è molto manipolabile ad esempio da titoli di giornali come quelli citati sopra. Infine, è vero che al momento della rilevazione il numero di persone che si dichiaravano molto felici è sceso drasticamente ma è anche vero che il numero delle persone che si dichiarano piuttosto felici sale altrettanto drasticamente. In attesa di altri dati sull'influenza del Covid-19 o della presidenza Trump sulla felicità della popolazione USA proponiamo un'altra misura della felicità. Si tratta di una misura semplice semplice che ciascuno può verificare a casa con carta e penna. Tracciamo su un foglio di carta una freccia verticale che punta verso l'alto. Questa freccia rappresenta la nostra vocazione la propria realizzazione cioè la felicità. È la piena realizzazione del progetto che Dio quando ci ha chiamato all'esistenza ci ha affidato. Non si tratta di oggetti da possedere o di cose da fare sposare quella donna possedere quella macchina svolgere quel tal lavoro ma diventare quella persona la miglior persona con il mio nome che abbia mai calpestato questa terra. Noi siamo la nostra vocazione siamo una vocazione in potenza e abbiamo il compito di realizzare tale progetto. Il resto sono circostanze che ci aiutano o ci distolgono dal nostro compito. Fin qui ci siamo è semplice una freccia in verticale che punta verso Dio poi tracciamo un'altra freccia che parte dallo stesso punto nel quale parte la precedente non rappresenta la nostra vocazione ma la nostra vita attuale se si sovrappone perfettamente alla prima complimenti siamo dei santi ma se non viviamo come dovremmo vivere se non siamo la persona che dovremmo essere allora questa seconda freccia si discosterà dalla prima di qualche grado ci siamo? Bene la divaricazione tra le due frecce misurabile in gradi è la nostra infelicità l'unica felicità è vivere pienamente la nostra vocazione aderire liberamente ad un progetto che ci è stato affidato e noi possiamo misurare quanto siamo lontani dal raggiungere questo obiettivo con un semplice foglio di carta e una penna qualsiasi una volta questo esercizio si chiamava esame di coscienza ma oggi la parola coscienza non va più di moda e nessuno usa più quella locuzione che sa di antico proviamo se siamo curiosi possiamo ripetere questo test psicologico quando vogliamo se l'avessimo eseguito prima della quarantena e immediatamente dopo la sua fine avremmo potuto vedere l'impatto del covid sulla nostra felicità magari scoprendo che non ha inciso per niente anzi magari ci ha aiutato a fare silenzio a scoprire l'importanza delle relazioni quali sono le cose davvero importanti per la nostra vita che si chiamava